Salve a tutti, oggi vi mostrerò come aggiungere dei soldi ad un gioco qualsiasi, nel mio caso Assassin's Creed 3. Creed 3. Perfetto, adesso bisogna aprire Keat Engine, e dobbiamo inserire il valore dei nostri soldi iniziali del gioco, ali del gioco. Grazie mille. Dopodiché, spunteranno molti più valori, ma possiamo stare tranquilli, avviciniamoci ad un negozio, e compriamo per esempio qualche arma, dopodiché, next scan, e modificate l'unico valore che c'è, in quello che volete, spero che io vi sia stato di aiuto. Ciao, continuate a vedere il mio video. Video. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille. Grazie a tutti.